Grazie a tutti i bambini, tanti donne, tanti anziani che dormono in strada via Venezia. Non c'è nulla, 10 giorni aspettiamo qua, non c'è risposta ancora, non è giusto così perché tutti gli asili politici, rifugiati d'Italia, c'è permesso di soggiorno ma non cambiare nulla perché tu lo sai, sgombrare via Cretatone 3, via Saia Indipendenza. Ancora creare violenza questa gente, ancora dormire qua, non c'è cambiare nulla.